Ciao, per parlare in italiano Oggi faremo una relazione a questo video che ho preso da Pinterest perchè quando non ho niente da fare Vado su Pinterest per vedere qualche foto e le annumi soprattutto perchè Non è un bici più preferite Ma allora Non devo piangere perchè sono una persona forte Se la canzone non mi fa piangere è un problema Vabbè qua No Già mi fate vedere Luzza anziana Sono due cose Omore Omore Perchè poi Sto facendo tocco matematico Cioè mi metto a tocco per schifo Cioè nel mondo delle se... Cioè E tipo Nooo Non fatimo dire luzza Non mi metto a piangere Non me ne fico Se lo pubblico su YouTube Proprio mi metto a piangere Non mi metto a piangere Non mi metto a piangere Non mi metto a piangere Nooo Nooo Non mi metto a piangere No Clop E' un po' così. E' un po' così.